ciao amici ho una sorpresa per tutti i golosi di cioccolato vi regalo la ricetta per un golosissimo budino cremoso cacao e menta è ideale come dessert quando volete qualcosa di morbido e goloso cremoso e confortante il budino più apprezzato è sicuramente quello classico al cacao ma della sua famiglia fanno parte anche le creme in tazza il creme caramelle le bavaresi io amo il cioccolato goloso e amico della linea la ricetta di oggi è senza sensi di colpa perché è senza latte senza zucchero e con cioccolato fondente se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco come si prepara budino cremoso cacao e menta 200 grammi di cioccolato fondente 300 grammi di yogurt di soia al naturale una presa di cardamomo in polvere un cucchiaio di stevia in polvere qualche foglia di menta piperita fresca mi hai fatto venire l'acquolina in bocca è anche veloce da fare 1 preparazione del cioccolato rompete il cioccolato a pezzetti e mettetelo a scaldare a bagnomaria in un recipiente adatto finché non sarà sciolto 2 preparazione dello yogurt nel frattempo mescolate lo yogurt con la stevia e il cardamomo 3 unione degli ingredienti unite yogurt e cioccolato e mescolate delicatamente dividete in quattro coppette servite con una o due foglie di menta decorative proprietà degli ingredienti principali il cioccolato fondente minimo al 70 per cento aiuta l'organismo a combattere il colesterolo e abbassa la pressione contiene antiossidanti amici della pelle che contrastano i radicali liberi lo yogurt di soia è di origine vegetale e ha un apporto di grassi quasi nulla è lo yogurt più indicato per chi vuole dimagrire il cardamomo è una spezia brucia grassi con proprietà snellenti perché accelera il metabolismo la stevia dolcifica più dello zucchero ma non apporta calorie e non innalza la glicemia perfetta nelle diete dimagranti la menta piperita proprietà rinfrescanti antifermentative è utile in caso di colite e disturbi gastrointestinali il budino cremoso non è solo buonissimo fa bene al cuore allontana la tristezza da energia fisica e mentale e secondo alcuni studi stimola l'eros grazie alle feniletilamine presenti nel cacao note per attivare il desiderio per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche mangia consapevole e dimagrisci